Giorgio, a pochi giorni dal ritorno sul ring di Octagon, un ring per te molto molto importante, sei stato fermo un anno, ci racconti che cosa hai fatto in quest'anno? Beh, ho avuto un anno difficile, dopo vari infortuni e dopo l'ultimo incontro che ho perso Contro Oristi, non è stato facile per me riprendersi e niente, adesso invece ho voglia, ho voglia di vincere, ho voglia di tornare a Torino A Torino ti abbiamo visto veramente in ottima forma, tanto che quasi tutti i giornali appunto titolavano The Doctor Is Back, come hai vissuto il tuo rientro? Beh, a Torino è stato il mio ritorno, mi sono preparato bene, però era importante tornare forte mentalmente, quello è la cosa più importante secondo me Mi sento bene, quindi la voglia c'è, quindi tutto il resto è niente quando la voglia c'è Giorgio, ad Octagon un match molto duro contro il tedesco Enrico Kell, che tra l'altro è anche il campione del K1 Wormax Ci racconti questo fighter, che tipo di fighter è? Beh, Enrico Kell lo conosco abbastanza bene, è un ragazzo giovane, tecnico, anche lui è mancino, quindi sicuramente sarà difficile sia per me sia per lui Perché sappiamo che tra i mancini incontrarsi è sempre difficile, sono tecniche diverse, sono distanze che cambiano Sarà un bel incontro, anche lui è tecnico e dopo sul ring vedremo chi vincerà, sarà il più bravo Il tuo match di rientro è stato contro Erkan Varol, che hai battuto ai punti Anche il tuo sfidante di Octagon, Kell, ha affrontato Erkan Varol e anche lui ha vinto ai punti Quali sono le vostre differenze tecniche? Beh, Kell è mancino, quindi fa sempre le stesse cose quello che faccio io, quindi siamo due combattenti simili Forse io uso più la difesa, lui un po' pensa meno alla difesa, però vedremo come finirà C'è un video che impazza su internet dove tu stai facendo sparring contro un grandissimo calciatore, contro Mario Ballotelli sul treno Come è nato questo video? Vabbè, un video simpatico, io sono andato a vederlo a lui che giocava a Londra, però lui abita a Liverpool Quindi in ritorno abbiamo dovuto prendere il treno, siamo andati in treno, avevo i guanti che avevo portato per lui E abbiamo voluto fare, siccome non passava niente in treno, abbiamo fatto questo scherzo qua di far sparring insieme E come è nata questa amicizia tra te e lui? Beh, questa amicizia è nata nel 2012, era quando ho combattuto a Octagon Lui era venuto a vedere con il suo amico, che ero il suo idolo, che sono ancora tuttora E niente, dopo ci siamo scambiati i numeri e è nata questa amicizia qua, abbiamo fatto un po' di viaggi insieme E non ti chiedo se Ballotelli verrà o meno ad Octagon, però dimmi, l'ha invitato o no? Beh, l'invito per lui c'è sempre, quindi se sarà libero verrà Grazie! 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 Grazie!